Il cuore oltre l'ostacolo ma anche qualcosa in più. Dietro la vittoria per 69-65 che la Candid Fruit Sigma Barcellona ha ottenuto sulla capolista Verona, c'è l'entusiasmo di esserci ancora, la voglia di continuare a lottare, la grinta di chi è tornato a casa e vuole che il suo fortino rimanga inviolato, almeno nel giorno del grande ritorno. E proprio il Palalberti ieri sera ha fatto la differenza facendo sentire il suo calore e il suo entusiasmo ai ragazzi di coach Perdichizzi che hanno risposto con un carico di orgoglio formato famiglia che ha permesso di sopperire alla panchina cortissima e al grande tasso tecnico degli avversari, primi non per caso. I giallorossi hanno fatto della difesa aggressiva e della tonicità a rimbalzo le loro armi in più senza disdegnare importanti ed efficaci ripartenze in transizione. Il resto lo hanno fatto le motivazioni. Che Barcellona non sarebbe stata disposta a fare la vittima sacrificale lo si è visto già da subito quando la partenza aggressiva ha messo in difficoltà Verona che è risalita però nel secondo quarto andando all'intervallo lungo sul 28-34. Poi sono saliti in cattedra i padroni di casa che hanno macinato punti, catturato rimbalzi, imbrigliato le bocche di fuoco avversarie. Non ci sono parole per descrivere la professionalità e il cuore di chi oggi indossa la canotta giallorossa. Solo tanto rispetto. Il resto è un'apoteosi sulla quale in pochi avrebbero scommesso alla vigilia.